e ciao ragazzi e benvenuti a tutti proprio a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi nuovo super mega video su che cosa sul fotovoltaico ragazzi grazie allo sponsor che ultimamente grazie anche ai vostri feedback ragazzi stanno sfornando vendite da urlo negli ultimi mesi anche grazie a fox tech channel ovviamente ragazzi guardate che bello questo nuovo inverter questo ragazzi nasce per chi non volesse andare utilizzare pacchi batterie 48 volt ma mantenersi con tensioni di funzionamento più basse cioè 24 volt questo è il modello vecchio questo è il modello nuovo migliorato sia in stile che in funzionalità esistono tre alternative differenti di questo inverter il 3.6 kilowatt il 4.2 e il 6.2 kilowatt tutti ripeto funzionanti a 24 volt andiamo a vedere le caratteristiche questo è il modello intermedio da 4.200 watt e abbiamo batteri voltage 24 volt lithium battery folder perciò è compatibile con tutte le tipologie di batterie chi mi conosce sa che io adoro le live più 4 per via della loro efficienza durata e stabilità eccetera eccetera poi ragazzi cosa abbiamo abbiamo come caratteristiche un inverter monofase ovviamente non va bene per gli impianti trifase poi output 230 volt massima potenza 4.200 500 volt massimo come ingresso fotovoltaico e mpp t la modalità ecco di ricarica dai fotovoltaici e max solar panel input 6.200 watt perciò ragazzi nonostante sia un invertere da 4.2 kilowatt può ricevere in ingresso anche molta più potenza gestirà tutto lui in automatico e ac charger current 100 ampere perciò da la rete del vostro fornitore e potrà ricaricare fino al 100 ampere massimo ragazzi è una corrente altissima occhio non tenetela mai con questa portata se avete un normale 3 kilowatt invece dal fotovoltaico massimo 80 ampere più 80 ampere da batteria più fotovoltaico può fare una ricarica di 140 ampere ragazzi questo sta a significare che le vostre batterie le andrete a caricare con una velocità mamma mia spaziale veramente inizia a lavorare da 150 volt niente ragazzi questo è un aggiornamento voluto anche dallo sponsor dove appunto vi illustro il nuovo prodotto funziona con le piombo funziona con le litio funziona con le gel carino da vedere molto stiloso qui abbiamo tutti certificati di conformità per quanto riguarda questo modello ma tutti i modelli di questo brand ragazzi sono inverter di alta qualità ben fatti costruiti ingegnerizzati e ovviamente con tutte le dovute certificazioni alla faccia dei troll che vanno a scrivere sui vari miei social che sono prodotti di bassa qualità certificati eccetera 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 ragazzi ragazzi comunque qui vi mostro uno schema tipo pannelli solari massimo 600 6200 watt massimo voc 500 volt da 90 a 450 come ingresso però abbiamo visto che a 150 inizia a lavorare qui è l'ingresso dell'utility cioè l'ente fornitore energetico o il tuo gruppo di continuità a tal proposito ragazzi ultimamente mi stanno contattando tantissimi nuovi brand tantissimi nuovi shop online interessata a collaborare uno di questi grossissimo ragazzi è un colosso ovviamente asiatico però che ha sedi e magazzini in tutto il mondo a tal proposito del generatore o meglio del gruppo elettrogeno e ragazzi arriveranno grandi grandi novità presto sul canale se non sei ancora iscritto iscriviti così da non perderti nuovi arrivi le nuove collaborazioni nuovi codici sconto di tutti i nuovi prodotti convenzionati con il canale niente ragazzi se il mio lavoro ti piace se il mio canale sia tiktok che youtube ti piacciono iscriviti lasciami like lascia anche un commento se vuoi supportami attivamente abbonandoti ai canali qui abbiamo le batterie qui abbiamo l'uscita ragazzi qui puoi andare ad alimentare massimo 4200 watt poi abbiamo un'altra scheda tecnica più dettagliata dei vari modelli e ragazzi il prezzo non è male un ottimo davvero ottimo prezzo in base al modello variano variano ragazzi dei dettagli tecnici come vedi la corrente di carica massima c'è un 120 c'è il 140 anche poi il 120 che è il modello da 6200 watt perciò come velocità di ricarica è meglio questo che 140 ampere perciò può sfornare più 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 corrente che ti va a caricare i pannelli peso 10 chili 10 chili e mezzo 11 chili qui abbiamo l'inverter in tutta la sua bellezza ragazzi possiamo dire che è un gemello di quelli che utilizzo io dei 5500 per 48 volt questo design sta piacendo tantissimo non è un inverter parallelabile parallelabile attenzione se volete quello parallelabile andate a vedere l'altra mia recensione dove vi mostro l'altro quello da 5.5 kilowatt buono bellissimo 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 qui c'è accensione spegnimento qui abbiamo i poli del pannello vai a metterli qui direttamente cosa che invece nel mio ce l'ha diversi a questi a vite che vado a bloccarli dimensioni sono queste niente ragazzi se il video ti è piaciuto iscriviti al canale qui in corredo ti danno anche l'antenna ti danno anche il cavo per poter pilotare tutto e programmare anche da remoto sotto in descrizione ripeto trovi link sia questo che a quello che utilizzo io se vuoi ti lascio anche sotto in descrizione i link alle batterie perché ovviamente per funzionare servono delle batterie e io sotto ti lascerò i link a batterie litio lì fepio 4 ragazzi per questo video è tutto grazie per la visione ciao belli al prossimo video seguimi anche su tic toc grandi grandi numeri ragazzi stiamo facendo scintille se ti servono consulenze e contattami in e mail grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti